La notizia è fresca di giornata, appena dopo l'ultima puntata del serale di amici che ha visto l'addio di Lil Jolie e Gaia Ora nella scuola rimangono otto allievi, e manca solo un mese alla fine del talent, quindi la competizione si fa davvero serrata La conduttrice torna in Rai e comunica a Maria De Filippi. Inoltre, c'è una bella novità per Martina. Cristiano Malgioglio vuole farle da compagna per un video musicale Un'occasione emozionante in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro Tuttavia, subito dopo l'eliminazione, sono arrivate le parole di Gaia, che ha espresso il suo ringraziamento per l'esperienza vissuta Ringrazio molto questo posto, il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro Quindi penso di aver lasciato l'essere insieme e non il solo Io ci ho messo tutto l'amore possibile in questa esperienza, in questo percorso Sono triste però, sono felice di come sia andata, Lorella Cuccarini, nel frattempo, si trasferisce in Rai per una settimana Novella 2000 ha riportato che l'insegnante sarà ospite in vari programmi, partendo dai sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1, poi su Uno Mattina il 24 aprile, e infine il 26 aprile sarà ospite alla Volta Buona con Caterina Balivo Cosa succederà ad Amici? Nonostante questo tour, giovedì Lorella sarà presente per la registrazione del serale di Amici 23 Si dice che Mida sia tra gli allievi più a rischio, dopo essere finito al ballottaggio con Sara e Aurora e aver evitato l'eliminazione Il prossimo serale vedrà uscire un altro concorrente e sembra che Mida potrebbe trovarsi in difficoltà questa volta Restiamo in attesa di vedere come si evolverà la competizione e cosa riserverà il futuro per i talentuosi ragazzi di Amici 23 Restiamo in attesa di Amici 24